benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video andremo a fare un video di nail art allora ancorati però devo preparare come vedete adesso vi dico che nell'arte andremo a fare andremo a fare il pony uno dei poni dei little pony dei cartoni animati pinkie pie quella rosa quella simpaticona lì quella divertente mattacchiona quella che poi inventa tutte le feste insomma dei compleanni e altre robe insomma quella lì e come colore andremo a utilizzare il pur white che il fast f01 poison black fast f16 surf che un celestino fast f54 il bellissimo ciclamino che è il classic c90 aiuto bubble gum questo se cosa tutto però pulito l'altra volta fast f56 infatti mi metto i guanti comunque aspettate mi sono sporcata sapevo poi userò nudo che è classic c17 per fare la tip insomma come base come colore base e niente questa quella dell'arte di oggi che propongo io che andremo a fare poi ve lo fare vedere le unghie che ho fatto che ho messo oddio come si chiama su colore oddio aspetta che ve lo trovo no volevo dire un attimo a meraviglia ecco adesso non so ricorda ho messo vera meraviglia ho fatto il french qua ho fatto un monocolore meraviglia e poi ho messo steso il bonbon fragola e ci ho messo qualche paillette aranciata arancione giallo insomma molte stive ed è qua uguale la stessa cosa qua mi è venuto un po male prove a sinistra sono handicappata insomma ancora qui e niente ogni tanto mi vede che casa volta ho fatto lunghe tanto che cambio perché io non mi do mai pace con lunghi finché ce l'ho corte le mie non finché non messa lunga né tipo che mi arriva né lunghi a lunga topico tipo anche fino a qui non sono contenta quindi mi vedrete spesso cambiare insomma ok e chiusa parentesi niente cominciamo subito con l'anelarte io ve lascio questo tutorial e ci vediamo a fine video come sempre e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.